Ciao ragazzi, in un nuovo video, oggi signori ci siamo, la casa nuova è nostra. Allora, signori, i video li faccio qua, in camera mia e di Mark Marker, questa è la mia potenzione dopo che faccio vedere tutta la camera e anche tutta la camera come so io, quando morio, qua, dirà come, dirà come, io sacerlo, e io qua ho cajono, e io ho ho corretto e ho fatto i video qua, non ho fatto il mio fratello, perchè anche lui, anche lui, prima, perchè va su, su, qui c'è, a prima, il video, e non voglio, non voglio dir subarlo, questa cosa. E niente, è un nuovo video, li faccio qua, e niente, è stato bello, io ho fatto questo video solo per dire questa cosa, e perchè lo vengo, perchè lo vengo a vedere la casa, perchè non ha, non mi piace a me, perchè lo so, che ci sono nago, ci sono, e, ci sono tutte le volte, però signori, però ci siamo, siamo su qui, siamo su qui a casa, casa di qui, siamo su qui, ci sono qui, però, dai e signori, vediamo un video se ci ascagliano, ciao signori!